Lotta le discariche abusive soprattutto, nonostante la carenza di personale. La forestale della provincia di Chieti è impegnata a portare avanti una serie di operazioni a tutela del territorio dall'inquinamento. Nevio Savini, comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti. Stiamo effettuando parecchi controlli sul territorio, su diversi aspetti delle illegalità ambientali. In particolare ci stiamo rivolgendo verso i rifiuti, verso gli sversamenti. È un servizio che sta dando buoni risultati sui rifiuti dei pneumatici abbandonati sul territorio. Abbiamo nella provincia di Chieti tre grosse zone industriali con tutti i problemi che ne derivano. Abbiamo diversi fiumi importanti con tutti i problemi che ne derivano per quanto riguarda gli sversamenti. Quindi è un territorio oggetto di controllo molto attento da parte nostra. Noi cerchiamo di fare educazione ambientale non solo tra i ragazzi, ma anche tra i ragazzi a scuole mentali e le scuole superiori. Però con le nostre azioni di partecipazione anche a convegni, a incontri tra associazioni, cerchiamo di promuovere l'ambiente da tutti i punti di vista. C'è un numero verde di emergenza ambientale che funziona 24 ore su 24, il numero 1515, un numero verde gratuito a cui tutti si possono rivolgere nel caso di avvistamenti di incendi boschivi, avvistamenti di persone che stanno commettendo un reato ambientale. Quindi noi siamo a disposizione, andrà una pattuglia che andrà a verificare e poi si faranno le indagini di rito.